Una super partita senza età e barriere, in campo due squadre extra large composte da 15 carciatori nel ricordo di Enzo De Fina, il 52 anno imprenditore di Monteforte Irpino, morto il 31 maggio del 2022, stroncato da un infarto mentre giocava a padel. In rete una carica di emozioni infinite per la seconda edizione del Memorial che si è disputato sul campo sportivo di Mercogliano. Alla manifestazione hanno presenziato i familiari di De Fina e centinaia di amici dell'imprenditore che le ha sensibilità e aveva fatto il suo codice di vita. La partitissima del cuore tra le formazioni delle vecchie glorie e delle giovani promesse sulle maglie, numero 6, il preferito di Enzo. Presente anche il sindaco Vittorio D'Alessio, arti rappresentanti dell'amministrazione di Mercogliano. Il primo cittadino ricordato De Fina, brillante imprenditore dotato di talento e passione, convinto sostenitore dello sport come volano per il sociale, promotore di iniziative mirate a fare aggregazione tra ragazzi e anche adulti. Una visione trasversale del calcio visto come nobile strumento per favorire l'inclusione e la solidarietà. Al termine della partita vincente e ben disputata dalle due squadre, animate dallo spirito dei cubertiano del fair play e della partecipazione, i valori tanto sostenuti da De Fina, in programma una coinvolgente cerimonia con premi e medaglie per tutti i protagonisti del Memorial. Sullo sfondo il sorriso eterno di Enzo, il patto d'amore siglato sulle ali della sua voglia di vivere in volo per tutta la vita, il suo sei e ancora il numero dello stare insieme, mano nella mano, nel segno della fratellanza dell'unione che fa la forza, un calcio ai pregiudizi, alle divisioni, un patrimonio di umanità ereditato da chi ha avuto la fortuna di conoscere Enzo De Fina, l'imprenditore del Corredoro.